Allora ragazzi, godiamoci insieme uno dei nostri grandissimi inviati, lui si chiama Andrea Righi, un collegamento molto hot, mi verrebbe da dire. Buon pomeriggio Emiliana, buon pomeriggio amici di vertigo. Io sono Andrea Ramboso Righi e oggi siamo qui in un'edicola, andiamo a curiosare un po'. Va bene, andiamo a vedere cosa ci regali. Sono sempre curioso perché io non so mai cosa accade. Permesso! E per me la nostra amica Rianna. Cosa stai facendo? Ciao Rianna! Guarda qua, secondo te? Ah, stai guardando film per adulti? Eh no, sto sistemando. Guarda cosa ho trovato. Cosa hai trovato? Guarda un po'. No, non è in calore. Vabbè, meglio evitare di stare in questo reparto e andiamo... Mi avevi detto che era un collegamento hot. Va bene. Non è in calore. Ti ispira? No, 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 preferisco qualcos'altro. Benissimo. Bene, allora. Se tu dici così, ma io ti conosco. Stiamo parlando di film hard, non è in calore. Vabbè, a morte non è in calore. Raccontaci un po'. Vendete film? Sì, certo. Film e anche riviste. Cioè la gente viene tranquillamente e fa voglio quello! No! Entra e tutti hanno come scusa il regalo di matrimonio. Cioè il scherzo di matrimonio. Ah, regalare. Intanto dopo però... E poi... Il mio scherzo è per loro. ...che è un pensiero e poi... Cioè lo impacchettano anche? Certo. Cioè impacchettano una rivista pornografica. Sì, perché se lo vogliono non uscire, no? Certo, certo, certo. Appunto. Altra domanda. Dimmi. Il quotidiano più venduto? Beh, il mattino di Padova. Ah, bene. Gazzetta Noi. Pochissimo. Il diario più venduto? Nona Papera. Il diario di Nona Papera? Sì. Cioè i ragazzi di oggi... Sì, 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 sì. E la torta di mele, meravigliosa. Bene. Vuoi salutare qualcuno? Tutti i clienti che vengono qua. Ecco, ciao. Ah, ma la Nona Papera è la nonna in calore del film? È proprio lei. È proprio lei. Da Legnaro, Andrea Rambozo e Righi e tutto. Ciao. 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 Ma non credo che Nona Papera, insomma, sia quella del filmetto di cui si parlava poc'anzi. Forse la fatta lo sa, ci sa dare la risposta. Mazze panelle, stessa cadinella.